14 maggio 1955. Viene firmato il patto di Varsavia. Il patto, firmato da Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Ungheria e Unione Sovietica, prevede una reciproca difesa in caso di aggressione e si contrappone all'alleanza atlantica, la NATO. Il mondo viene a trovarsi così diviso in due blocchi ostili. Nel 1956 anche la Repubblica Democratica tedesca entrerà a far parte del patto. Il patto di Varsavia venne sciolto ufficialmente il 1 luglio 1991.